Come ti chiami? Domenica Castiglioni Quanti anni hai? 90 Dove sei nata? In Argentina Quando sei nata? L'8 giugno del 24 Quando sei venuto a Valentano? Ero piccola, avevo avuto 3 anni Con chi? Con l'annunato e il mio padre e il mio fratello Che è successo il 10 giugno del 1940? E' scoppiata la guerra Tu, tua madre e tua nonna, dove vi siete nascoste? Eh, nella cantina E perché? E perché c'erano paura delle apparecchie che buttano le bombe E anche di che cosa avevate paura? Delle apparecchie che passavano sopra noi Però c'erano anche delle persone che giravano al paese, no? Sì I soldati I soldati tedeschi I soldati tedeschi I marocchini Ma i tedeschi erano bravi però E anche i marocchini I marocchini pure c'erano E che facevano i marocchini alle giovani ragazze? Eh, qualche ragazza l'hanno violentata Tipo conosci qualcuno? Perché lì, ma la gente stava tutta un serratata dentro casa Non si viva E tu, nella cantina Con tua madre e tua nonna e altre persone Dove ti sei nascosta? Mi sono nascosta sotto le vesti di loro Perché? La nonna e la madre Perché venivano a perquisire L'omine A perquisire più alle ragazze E quante anni avevi tu? Eh, invece avevo avuto 16-16 anni Quando è morto tuo nonno? È morto, ma lui è con una cannonata Da Latira, da paese che non era lontano È arrivata una cannonata E lui stava a sede delle scaline Di un portone E l'hanno centrato E alla notte è morto Che anno era? 19-19 Che anno era? 40-19 Sai la cannonata che l'aveva sparata? L'americane Cosa hanno fatto gli americani Quando è finita la guerra nel 1945? No, niente, sono venuta A Valentano danno le caramelle a tutte le bambine Tu l'hai visti? No, io ho paura E a chi l'hai incontrato dopo la guerra? Dopo la guerra? A nonno Chi ho incontrato? Carlo Che era il tuo fidanzato? Eh, ci ha perso l'amore Poi è nata a fare militare E il militare è nato a Pola E poi l'hanno preso il prigioniero Mentre che facevano militare L'hanno preso il prigioniero L'hanno portato in Germania Da dove l'hanno preso? L'hanno preso a Pola Era pochi giorni che era andato sola Dove l'hanno portato? In Germania Dove? Eh, che ne so Nel campo Nel campo dei concentramenti E che mangiavano? Le patate Le bucce Eh, c'era altro Quando è tornato? Eh, quando è tornato Stava bene